C'è anche il sindaco di Cerva, Fabrizio Rizzuti, tra le persone poste agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Carpantos, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro. Il sindaco, 49enne, è accusato di scambio elettorale e politico mafioso assieme ad un assessore, Raffaele Scalzi, di 42 anni, e un consigliere comunale, Raffaele Borelli, di 47 anni. Anche loro ai domiciliari. Dalle indagini è emerso uno scambio elettorale e politico mafioso e l'influenza del gruppo criminale di Cerva sull'amministrazione comunale in occasione delle elezioni amministrative del 2017, mediante il procacciamento di voti. I tre, grazie all'intermediazione del fratello del primo cittadino Massimo, dipendente comunale, si sarebbero rivolti a Tommaso Scalzi, già condannato per associazione mafiosa e considerato vicino al boss Franco Cocotrovato, affinché procurasse loro dei voti permettendo in cambio una somma di denaro e una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal Comune. L'operazione Carpantos, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha impiegato 400 militari che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 52 soggetti, precisamente 38 in carcere, 6 ai domiciliari e 8 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, con accuse a vario titolo di associazione di tipo ondranghetistico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, rapina a mano armata, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'operazione ha consentito di intervenire, dimostrando l'esistenza di un sodalizio di indrangheta operante nei territori di Petronà e Cerva, con ramificazioni nelle province di Lecco, Genova e Torino.